È arrivato il nuovo vaccino aggiornato contro la variante Omicron. Vacciniamoci. È lo slogan di Regione Liguria e Alisa per incentivare la vaccinazione anti-Covid. Il messaggio è rivolto soprattutto alle persone più a rischio, anziani e ultra vulnerabili. Effettuare ora la dose, sarebbe la quarta, dicono i sanitari, vuol dire mettersi al riparo in caso di una nuova ripresa dei casi. D'altronde è di ieri l'avvertimento dell'Agenzia Europea del Farmaco su un nuovo possibile rialzo dei contagi e sull'entrata in scena di altre varianti. Il vaccino aggiornato contro Omicron 1, assicura Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, protegge anche nei confronti delle altre sottovarianti. Le aziende sanitarie Liguri si sono già organizzate. Abbiamo modulato la campagna vaccinale cercando di essere presenti nel lab vaccinale centrale di Ferden a Chiavari, ma anche con Gulliver all'interno dei territori dell'entroterra. Da questo punto di vista, da lunedì prossimo, noi continueremo ad aprire tutte le mattine il centro vaccinale di Chiavari, tranne il martedì e il giovedì, quando il nostro equipe mobile con Gulliver sarà nei vari comuni, secondo il calendario comunicato. Il servizio mobile Gulliver toccherà Moneglia martedì 27 settembre, Cicagna giovedì 29, Rezzoaglio e Santo Stefano Daveto martedì 4 ottobre, e poi Varese Ligure il 6, Borzonasca l'11, Portofino e Santa Margherita Ligure il 13 ottobre. Abbiamo incontrato la disponibilità e il gradimento dei sindaci, delle amministrazioni, ma soprattutto delle persone. Noi torneremo nei territori a proporre la vaccinazione per chi vorrà farla e noi speriamo che soprattutto le persone fragili, over 60, si convincono a fare questa quarta dose, la dose booster, ma anche per fare le vaccinazioni domiciliari e quindi in un'unica giornata con Gulliver saremo a disposizione di chi non può muoversi, ma anche di chi con più facilità potrà vaccinarsi nel territorio dove abita.